Comunque io lo dico qui davanti a 5200 persone Se Gischianto vuole una mano ma seria E vuole essere operato Mi contatti o comunque lo contatterò io Mi prendo la briga di farlo operare E di cambiargli un po' la vita Non l'ho fatto nel video di Gischianto perché Magari era un po' troppo tutto il video Io stasera ho riparlato con Pepo Gliel'ho riproposta A Rubino già lo sa che gli vorrei dare una mano Però si caga sotto pure lui di fare l'operazione Gischianto l'unico modo che ha di non morire entro due anni E di fare l'operazione il prima possibile Io lo dico non gli voglio portasfiga Mi sembra un bravo ragazzo Se vuole gli do una mano Però deve volerlo lui Allora regà questo qua era il mio vecchio pantalone Questo qua Questo qui era il mio vecchio pantalone Papà Ehi No Questo era il mio vecchio pantalone Se sono dimagrito io così Perché gli altri non lo possono fare? Mamma mia In un campale solo Cioè ma se l'ho fatto Ehi papà Questa è una delle cose che papà ci tiene più in assoluto Ehi 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 papà ci ci tiene più in assoluto